Sentono Todi come luogo dove poter elaborare nuove idee per il futuro. Si tratta di registi, giornalisti, manager, scienziati residenti da alcuni anni che si confrontano per pensare alla ripresa dopo il Covid. Andrea Chioini. Potrebbe essere lo spot pubblicitario di una birra dal nome italiano girato nelle campagne di Todi a simbolizzare la volontà di ripresa dell'intera Umbria nella prospettiva post-Covid. Il regista di quel filmato, Paolo Genovese, lo utilizza per lanciare un'idea ben precisa. Sviluppare e spingere per la film commission è per portare le riprese a Todi. E in Umbria in generale c'è stato Don Matteo che in maniera stabile girano in Umbria. Io ho girato un film, ultimamente ho girato anche uno spot pubblicitario. Genovese lo ha fatto nel corso di un digibattito, se il neologismo ci è concesso, su come pensare il futuro di tutto il comprensorio. Un confronto coordinato da Gilberto Santucci. Insieme a Genovese altri residenti non originali di Todi che vogliono offrire il loro contributo e aprire nuove prospettive. Tra questi Giuseppe Cerasa, direttore delle Guide di Repubblica. Cibo, arte, cinema, festival, è stato un po' a questo poker di possibilità e secondo me Todi riparte. La proposta di Cerasa potrebbe essere estensibile a tutta la media valle del Tevere, scelta anche da scienziati come Silvio Garattini, attualmente residente nella frazione di Cecanigbi. A confronto chiamato anche Raimondo Astarita, presidente della fondazione ANAI, sostenuta dalle società di assicurazione italiane. Io vengo a Todi non solo per riposarmi, per stare lì, per buttarmi in giardino, ma proprio per pensare. Detto questo io vorrei aiutare i giovani di Todi, vorrei parlare con qualcuno che ha fatto qualche start-up, magari vedere un po' di dargli una mano, portare magari la mia esperienza per vedere se possiamo aiutarli. A tutti ha fatto sponda il sindaco di Todi, Ruggiano, che ha colto l'occasione per annunciare una nuova infrastruttura culturale, il museo dedicato all'opera di Piero Dorazio, nella torre di Palazzo dei Priori.